Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo passate su fifacoin.com e con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto SBO- Questo rumore è di quando piegarsi in faccia Ma ho sentito sempre da te questo rumore In realtà no, il mio rumore è così Perci al cazzo Vedi, questa è proprio PAM la mazzata tua, proprio la cappellata qua Vabbè, è bella Buone cappellata a tutti e niente Soprattutto alle donne Oggi siamo con un nuovo FAQ opening e apriamo Alaba Comunque noi continuiamo la nostra ricerca in Massif della Coppa America Ma ciao Non c'è anche Ho capito, lui fa i seri di tv Incredibile Non l'ho capito Il nostro account è Wawanmwaku Incredibile, fantastico Forest Ma no, ragazzi, adesso ci sarà uno zoom sul nome del nostro account E leggete Wawanmjukogu Wawanmwaku Tra l'altro, voi che vi lamentate che Wawanmwaku Che abbiamo gli account Wawanmwaku Wawanmwaku Mi fai fare un discorso serio? Wawanmwaku Voi che vi lamentate che abbiamo un account Si, ma ti fermi il favore E' più facile trovare la gente Noi gli account li paghiamo anche Cioè, ora ce li danno quelli dei crediti Zan zan Prima, quando facevamo i cazzo di pack opening Che c'erano i todio e tutto quanto Noi compravamo i crediti Cioè, venite per fare i pack opening Per fare i pack opening, quindi vaffanculo Che cazzo rompete i coglioni se abbiamo un account comprato? Che lo fammo per fare i pack opening alla fine Poi vi lamentate pure se magari non troviamo nessuno Vabbè, va E' fiuto mio Diopmanmw Support Xenic Qui in descrizione Cioè, qui sotto ai commenti Hashtag support Xenic Perché sta andando fuori di testa BAM! Mi ha fatto Bianco STA LA! Incredibile, è ritornata al cello Oh, il Conan Oddio Grissman OOOOOOOH Cielo dà Con il fratello di Mangala Ma che... Ah, è vero, hanno appena comprato questo Hanno speso 30 milioni Stava cascosta, 30 milioni Vabbè, non è accio, è vero? No, 85 di velocità, 84 dribbling Cioè, comunque Vabbè, ma c'hanno consigliere No, vabbè, non c'hanno consigliere No, vabbè, non c'hanno consigliere Ho vinto Ma un premier Otsu Non è male che un video Probabilmente è andare a Lars Ma Lars c'ha tutti sti sordi ogni volta Ma che domani come do cazzi? Non vince niente Verratti e trap Piano 100 milioni Soltanto dei diritti tv Vabbè, questo va il video Sì, stiamo facendo il video Sì, stiamo discutendo di calcio Dio cam Poi dicono che siamo noiosi Ah, un'altra cosa Voi gli dite che siete noiosi Credibile Totti Non lo scartare o ti ammazzo Guarda, Totti era nocchia Questo è un insulto, ragazzi Totti era nocchia E' un insulto Scarta la nocchia e lascia Totti In via al club In via al club Oh Hai visto la nocchia? Non c'è più Grazie I ghiliotti Lo troviamo, Bini In questo pacchetto Eccolo Gervinio Credibile Ma ancora non se ne andava Attenzione Andiamo su un altro In arrivo Sfornato Howard Sfornato Oh, ma ho rotto il cazzo Damci Stiamo trovando tutta l'America Poensia Oddio Mamma mia Fare quello di Gomorra Ciro di Marce E' lui, regà Sono due gocce d'acqua C'è qua Io non ho visto Gomorra E' identico Ti sparo un bocco Ciro di Marce Ciro di Marce E' quello che dice ha già Il mosso della peterla No quella Io lo dici a lui Fuego Martello prendito Martello Martello Oh 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 Pianic 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 Amrabat Ciccocco Trasciorra sul Comò Pianic 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 Amrabat Ciccocco Ciccocco Sul Comò Sul Comò Vabbè la scriveremo E la faremo Ce la scrivete una Ve la strocca? Se vi piace la cantiamo Facciamo proprio la canzone Amrabat Ciccocco Trasciorra Sul Comò Sul Bottiglia Io Samer Io non so Io Samer Io non dormi Da una settimana Quattro giorni Sei minuti Poi Non lo so Vedi questo Cazzo sembra talcomano Non è Cazzo sembra Non mi ricordo come fa Però è una figa Cazzo E' veramente figa C'è bella bella Lo facciamo con quella base la Dembele Kiprak Kylas Pierluigi Pardo E' tocca a me direi Si In modo lo lascio Sei chiara come l'alaba Come un alaba Sei chiara come un alaba E' bellissimo Però vabbè PAM OHHHH Fuora lui Ma perchè Ma pure prima ho fatto fama E' trovato Isla Io te l'ho detto che ritrovavo Isla Io te l'ho detto che lo ritrovavo Ma tu po' Fatte la fanculo un po' Eh ma porco tu Basta Cioè Cioè Comunque davvero Cioè Due Isla Ma potremmo trovare un If Un If Cioè regà Penso che trova due volte Isla Non lo so Cioè E' una cosa incredibile Ora scrive sotto Io non ho trova di quattro Io non ho trova di otto Ma gioca in una trova di quaranta Sì Sempre così No comunque ragazzi Cioè Isla Respiri e pianta Oddio Eeeh La 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 Aspetta Oddio Comunque niente ragazzi Abbiamo trovato un'altra volta Isla Videomotocopia Del quello Scorso Sì Eeeh Se non l'avete visto andatevelo a vedere Comunque venerdì era Riccione No Comunque lui si era Riccione Eeeh Incredibilmente viaggio nel tempo Niente Che hai detto te dopo Riccione? Ah e sabato uscirà Sabato è uscito Un video Fantastico Che dovremo faremo il mongolodico quando c'è E di ieri è uscita la Instagram challenge E domani Cosa uscirà non lo sappiamo neanche noi Perché ancora non l'abbiamo registrato Quindi ciao Ciao